Il sindaco Marco Alessandrini ha annunciato di essere disponibile per un secondo mandato come sindaco di Pescara. Qual è la posizione del segretario cittadino del Partito Democratico? Noi abbiamo detto già più volte, a seguito poi di una consultazione anche con le varie forze politiche componenti la coalizione di centro-sinistra e all'interno del partito, ma anche con il sindaco stesso abbiamo parlato più volte, che il momento politico in generale, ma in particolare anche nella nostra città richiede una consultazione popolare, quindi semplicemente vogliamo che si ritorni a coinvolgere i cittadini sulla scelta del sindaco e quest'anno vorremmo fare anche una primaria delle idee, in modo tale che i cittadini possono indicare anche tutta una serie di temi più importanti per la città. Rumors riferirebbero anche della volontà dell'attuale vice sindaco Antonio Blasioli di candidarsi a primo cittadino. Adesso ci sarà sicuramente una ridda di nomi in giro, ma insomma i nomi non li abbiamo fatti e non ci sono. Noi faremo le primarie, dove chiaramente ci saranno una serie di candidati aspiranti, legittimi, alla carica di sindaco a Pescara per tutta la coalizione, non solo del PD e quindi poi vedremo chi vorrà candidarsi e cominciare chiaramente dal sindaco uscita, si vedrà. C'è un momento questo di ricoinvolgere tutti i cittadini, i cittadini vogliono essere coinvolti, vogliono partecipare e quindi credo che sia una cosa sicuramente utile e che facciamo solo noi, tra l'altro. Noi del centro-sinistra, nessun altro partito, nessun'altra coalizione ha mai fatto questo tipo di lavoro. Di solito scelgono le cose attraverso le piattaforme o attraverso alcuni cenacoli in cui decidono chi dovrà fare il sindaco o altre cariche.